Questa è stata una bella win, Stef, questa è stata una bella win Giocando come i due scemi, col pompa tutto il tempo abbiamo vinto E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Stef, che seggi che mi afforna... Benvenuti in un nuovissimo episodio di Fortnite in cui cercheremo di giocare utilizzando solamente i fucili a pompa Quindi non possiamo utilizzare niente, 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 nient'altro All'inizio del game, secondo me, è anche abbastanza normale Ma quando arriviamo alle fade successive Ferre, guarda Tico, solo una cosa Secondo me, per avere qualche chance di fare qualcosa di davvero buono, ci serve il trampolino Perché così in endgame, boom, trampolino, ti ributta verso la gente e fai il delirio Mi sembra avere troppa fortuna a riuscire a trovare anche quello Lo so, andiamo a condotti confusi Secondo me l'il pompa c'è sempre, sempre, sempre un must Probabilmente un team, quindi mi sembra il posto giusto dove andare E probabilmente moriremo subito No, 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 no Il mio obiettivo è 4 kill Tra me e te, totali, 4 kill con i fucili a pompa Vincere? Non so se è possibile Di sicuro dovremmo prendere 999 di materiale se vuoi vincere Perché così bui talmente tanto da obbligare le persone a venirti addosso E quindi a riutilizzare appunto il fucili a pompa anche loro Però che delirio, totalmente un delirio incredibile, è difficilissimo Allora, ho visto lì uno shield, almeno quelli li possiamo prendere Ok Non sai che non vedo player? Te l'ho detto che io in questa zona non ci viene quasi nessuno, te l'ho detto Vabbè, le munizioni le prendo Non so perché, aspetta, lì mi sa che c'è un bel fucile a pompa verde che fa il caso mio Mi sta facendo malissimo il cuore non lottare le cose Eh, lascia perdere Mi sta dando un fastidio Incredibile Allora, ho trovato un sacco di scillini E il fucile a pompa è quello che spara un colpo alla volta Che comunque mi voglio tenere in una cosa del genere Io ho trovato il fucile a pompa classico Cioè quello che ci piace di più Ok E basta, verde Verde? E comunque non è male I scillini li posso prendere, vero? Sì, 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 sì No, almeno queste cose già possiamo prenderle Abbiamo il vincolo sull'arma Possiamo sparare solo con dei fucile a pompa Ho trovato anche un medikit, un sacco di scill Beh, sto posto è sempre fantastico Oh, sì, a voglia, a voglia Devo continuare a cercare perché voglio almeno due fucile a pompa Poi voglio almeno un sacco di colpi di fucile a pompa Se deve essere l'unica arma che abbiamo No, certo, certo Dateci i munizioni, almeno quello Mi sembra il minimo Qua c'è un'altra chest Ok, sondo, sondo, sondo Io mi sono persa nella specie di galleria della miniera Non esco più fuori Ah, ecco, ho trovato l'uscita Ma penso di aver girato in tondo per due ore Che hai trovato, Steph, nella cesta? Allora Io ti lascio lì Fai vedere che Rimani custodito Anzi, lo devo nascondere No, nascondilo Perché? Prendilo e buttalo sotto qualcosa Dove non si può trovare Perché non è giusto Se non possiamo avere Noi non lo deve avere nessuno Qua ci sono munizioni al pompa Lì c'è lo slurp Ah, te lo prendi al volo Maledetta Sento ancora una chest Fari è qua in giro, eh Quindi cerca la chest Ok E poi questo slurp Verrò dopo a prenderlo Allora Dove possiamo buttare Uno scarre per nasconderlo a tutti Come è qui dentro? No No, si vede Si vede lontano a un miglio Quella cosa viola che sbrilluccica Sotto le scale? Che tristezza Può andar bene? Dai, qua può andar bene secondo me Anche perché non posso pensare a quello Non possiamo passare tutta la giornata a fare quello Mitraglietta Le munizioni Quanti colpi hai del pompa, Ferre? 18 Io ne ho 10 Anche aprendo scatole di munizioni Non trovo mai quelle del fucile a pompa Oh, un fucile a pompa verde Quello buono, meno male E quindi anche un po' di colpi E sono a 18 Bene, ho due shield di quelli da 50 Quattro shield da 25 Un medikit E un falò Pienissimo Va bene Bello anche il falò, bello Lo so, può far comodo infatti Però niente trampolino Che è quello che secondo me ci serve ancora di più Però magari lo troviamo più avanti Allora, io continuo a prendermi un po' di legna Ne ho 150 Tu comunque ne hai 100 108 Dai, dai, dai Stiamo andando bene Continuo a prendere ancora un pochino Così possiamo andare sul sicuro Nel caso di un fight Munizioni comunque ne abbiamo Ma guarda, io ti dico Secondo me qualche kill Ce la possiamo portare a casa No, vabbè Qualche kill non lo metto in dubbio Dipende dalla modalità in cui conto i giocatori Guarda che è difficile Perché comunque le kill più semplici Erano quelle da fare in early game Eh, no, certo, certo E alla fine non abbiamo incontrato nessuno Eh, però dai C'è anche da dire che durante i game Capita spesso che ti ritrovi faccia a faccia Con un player Ma oggi non capiterà È giusto la parte finale Che quella la vedo davvero Sì, sì Cioè, è difficile se non impossibile Delirio, delirio, delirio Allora, vedo player a 330 gradi Lo potrei sparare, massacrare Sì, sì E fargli tutte le cose più brutte possibili Ma non possiamo Se solo tu avessi un fucile Se solo io avessi quello scar È bellissimo A distanza, esatto Se solo lo avessi Allora Invece non lo hai Ok E invece non l'abbiamo Quindi Uuuuh Altra ceste Pompa blu Uuuuh Bello questo Bello Almeno una buona notizia Ce l'abbiamo Ok, let's go Andiamoli addosso, Fede Se non ci vede Magari guarda fisso dritto E arriviamo da dietro Boom, boom Proprio tutta la cattiveria Del non poter lutare E poi magari c'è il cecchino Leggendario Io piango ancora di più Lo scar leggendario Cosa ne so Dove è finito? Mmm 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 L'abbiamo perso Nel frattempo È Ecco Come era ovvio Era la nostra prima vittima Fede Ah ne ho visto un altro Ok Dentro città Ok Aspetta Lo vedi? No È corso dentro un palazzo Andiamo, andiamo, andiamo È il nostro momento perfetto Possiamo raggirarlo E andrgli in faccia Quindi è il momento perfetto Sì, sì, sì È il momento giusto Per andare a caccia È in questo palazzo Pronta? No Oh Trampolino Oh Bello Oh cavolo Fede ci sparano Sto per piangere Vieni dentro Sono dentro Sono dentro Sono dentro Oh ma qui c'era stato già un altro fight Allora Oh ma guarda Anche perché lui No vabbè Fede c'è il loot Ma stiamo scherzando Sto per piangere Sto per piangere Stiamo scherzando Guardate Aspetta silenzio Però aspetta Questo me lo Posso prendere Perché il fucile a pompa blu Quindi questo lo posso prendere Ok E c'è anche un altro lì blu Oh cavolo Arrivano Ho paurissima Stef Sono qui in zona Eh lo so Ho paura Ok Però qua c'è un sacco di loot in vista Eh sì Quindi magari vengono Capito Sono attirati Esatto Non li possiamo cogliere di sorpresa Allora siamo abbastanza lontani dalla nuova zona Siamo rimasti in 21 La kill l'hai fatta Entrato Mi è sembrato di vederti qualcuno correre davanti Ti giuro Ma Non so perché Andiamo Sto impazzendo Stef aiuto La paura mi sta giocando brutti scherzi Ok Dove cavolo è finito Perché ci sparava Da di fronte a noi ed è morto Ci sono altre armi leggendarie Cioè non ho mai visto un game con così tanto loot in vita mia credo Ok lo vedo Dove Sta lootando di fronte a noi Ok Fammi vedere nel tuo schermo Ok quindi capisco a che distanza è Perfetto Andiamo No è andato È andato Oddio è andato Occhio eh Sì 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 Seguimi Sta rompendo quindi non sente un gran che secondo me Ok sì magari è distratto dal rumore Sopra Ok aiuto Ha messo una trappola Non possiamo proseguire No 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 Meno male che l'hai vista guarda Lo so Io non le vedo mai Aiuto Non è una buona idea Anche se non possiamo fare altrimenti Ok Ucciso Bravo Bravo Che cosa bella Ascolta mi puoi dare un po' di munizioni per il Pompass Se te ne avanzano tante Eh ne ho 150 Ecco perché io ne ho 16 Steph 16 e 13 nell'altro Perché alla fine li ho tenuti tutti e due Il verde e il blu quindi Però non me li tengo Giusto per far finta di avere l'inventario pieno Capisci Aspetta C'è qualcun'altro Può essere vero Non lo so Non ho sentito ti dico la verità Cioè quello lì è stato morto Cioè stavo parlando e non ho sentito Vabbè andiamo Ok Cioè ti rendi conto che se infrangessimo la regola in questo momento Questo game lo vinciamo Eh lo so Però non si può Perché lì stiamo lasciando cechini Scar leggendari Qualsiasi cosa mi viene in mente C'era il ben di dio proprio Siamo full vita Full shield Con shield da parte Medikit Però abbiamo anche il trampolino Un sacco di cose per bullare Eh vabbè però non si può Ok Stavo rischiando Fede Ok Lo sapevo Ho detto cavolo se ce l'ha fatta lui ce l'ha fatta pure io Capisci Però io già ho pensato cavolo ho fatto una scemenza Poi ho pensato cavolo adesso fa la scemenza Mi sono girato e stava scivolando Vabbè tanto devo Devo andare Verso qui Era tutto programmato Perché poi devi andare verso questa parte per la zona Capito l'ho fatto apposta Poi era per avere l'ebbrezza di avere anche meno vita Perché tanto è facile Per rendere tutto più difficile e frizzante Ce l'ha bisogno Ce l'ha bisogno Senza un bro di dubbio Ok Allora Siamo praticamente arrivati nella zona Che è perfetto 17 vivi Che già è un traguardo incredibile Secondo me Soprattutto giocando così aggressivi E adesso vediamo un po' cosa succede Materiali io ne ho Ne ho Ne ho Ne ho Quindi non credo che ho bisogno di prenderne più di così Mi sto guardando un po' intorno Se qui davanti mi troverò Uh sì E meno male che ho controllato Mi andiamo addosso Di fronte a me li vedi che costruiscono Ferre Ferre io te lo propongo Poi tu mi devi dire di no Ma so che non mi direi di no E moriremo Esatto Aspetta Vabbè dai ormai per come è sto game Come Ok Stef mi sa che ho visto il movimento anche nella nostra sinistra Fai attenzione Perché mi tocca fare ste cose Porca miseria non sono riuscito a salire Io sì cavolo E mi è mollato da sola Ok sono nella sua struttura Stef aiuto Una giù L'ho ucciso L'ho ucciso Stef Oh mio Dio L'ho ucciso Oh mio Dio Ho avuto paurissima Stavo per morire di infarto Ma sento che corri? No io sono dentro la struttura Sì mi stavo muovendo C'è il tra gente Eh ma mi devo curare Stef Non morirmi ora ti prego È morto Sei morto Che bravi Aspetta mi ribevo uno shieldino Ok Porca miseria fammi rientrare qui dentro Cavolo Allora La bomba ballerina però me la prendo eh scusami Aspetta no ti ho fatto Riesci a salire? Sì sì credo perché ha distrutto tutto Aspetta Sì ok ok Ce la fai? Aspetta spacco qua Ok C'è qualcuno? No Fede da questa devi spaccare qui Dove? Qua vieni Ok Ok Ta Ta Ah grazie Allora la bomba ballerina la posso ottenere Perché me la son presa Sì Sì dai Sì sì Non è né un'arma secondo me Cioè praticamente Sai cosa è successo? Perché ora che siamo un po' calmi Lo posso dire Ho visto te che con quell'accidente di obrellino Hai proprio failato E però io ero già dentro Ero dentro la sua costruzione Loro guardavano te E io da sotto che gli sparavo a 30 lit E io ho avuto troppo pure Perché ho detto Sono sola cavolo Adesso ci muoio Invece ho avuto la meglio Non so come Perché lui continuava a buldare E distruggere All'interno della sua costruzione Quindi è stato difficilissimo Quante kill hai in tutto? Io ne ho tre E tu ne hai due 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 Io mi sa che questo medikit Consolino me lo sparo Cioè tanto qua è proprio Vida loca Cioè vivi l'attimo Non posso tenermi cose da parte Cioè siamo a 5 kill Giocando solo col pompa E siamo negli ultimi 10 Comunque c'è da dire che Avevamo previsto di farne almeno 4 E già 5 ci va bene Ah di nuovo il fuoco Perfetto Mi sembrava un trampolino Da lontano Ho sbagliato io No ma ce l'ho un altro Ok Sì lo so Lo so che non ci credi neanche Ma ce l'ho un altro Quindi un'altra volta Possiamo fare qualcosa di buono Allora sto controllando un pochino Alla nostra destra Aiuto Adesso moriremo per forza Perché siamo solo in 10 Sì cioè siamo in 10 Con gente che sarà proprio Con accampamenti incredibili Col cecchino che ci puntano E noi siamo qua così che corriamo a pompa Davvero è emozionante Sparano Sparano Emozionante Da un po' di fronte a noi a destra Vedo anche building a sinistra Sì chiaramente sparano dalla nostra destra Li ho visti pure Che facciamo? Non so dove sono Come sono visti? Alla nostra destra Li ignoriamo? Ah eccoli Però aspetta 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 Stanno fightando Ignoriamoli Sai cosa ti dico? Proviamo a vincere il game Sì e sta accadendo anche un airdrop Di fronte a noi Proviamo a vincere questo dannatissimo game Se riusciamo a rimanere due contro due E usiamo il trampolino Dimmi che non puoi vincere Prova a dire che non puoi vincere Potenzialmente si può Potenzialmente si può Ma guarda questi qua Sono accampati con le strutture in metallo Allora Qua bisogna fare attenzione C'è qualcuno per qua Vieni con me? Sì 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 Ce la fai sì? Sì Ok salta Ma dimmelo prima Niente? Dai a fare Allora esci e fatti la tua struttura Cioè non fa Ok Ah ok li ho visti Li ho visti Sono lontanissimi Vogliamo proprio rompere le scatole Eh giustamente Ma rovinano tutti i nostri piani Eh lo so Ma tu non puoi pretendere di avere piani Quando siamo messi così male Steph Allora aspetta Io forse ho un'idea Ok Vado ancora più in alto? Sì Vado ancora più in alto Aiuto Facciamo Mi sparano Costruiamo Non ce la faremo mai Perché ci sparano da più lati? Ce l'hanno tutti con noi eh E beh perché siamo attaccati all'Aidrop Eh lo so Cioè tu mi vieni a dire giù Ci vengono addosso Ci vengono addosso Te lo giuro Ci vogliono venire addosso col trampolino Stanno arrivando Dove? Non li vedo Forse sono solo su di te E infatti sono su di te perché sei zitto Credo sia caduto Non ti posso aiutare È sotto Occhio È lì sotto eh Ok sto cercando Ma che mi sta costruendo sopra? È qua è qua è qua è qua No mi hanno buttato giù Ok l'ho ucciso Aiuto Ce la fai? Penso di sì Ok Sei ferma? Sì sono qui dentro Aspetta Non mi posso muovere Mi dovresti Arriva arriva Ok sembra safe Cavolo porca miseria Eh a me hanno sorpreso dall'alto È stato molto strano Tirati velocissima le bende Tirati lo shield che dobbiamo uscire da qua Sì 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 Non possiamo stare qui fino alla fine No ovviamente Cioè ma dimmi te se vengono loro a trampolino su di noi Quando abbiamo solo il pompa Porca miseria Vabbè il meno è giusto È quello che vogliamo Quindi va anche bene Sì 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 Era l'unica esperienza di vincere un fight Ma che ansia È stato brutto sto fight Perché non ho capito bene da che direzione stava arrivando Eh si stanno muovendo bene Quindi sì è stato un po' brutto per me Ok gli shieldini Ok ci sono Più di così non posso fare Adesso Andiamo? Sì Ok let's go Io direi Come hai fatto uscire da qui? Di scendere Saltando Non riesco a saltare Ecco fatto Credo che siano là quelli Quindi Credo che se io buldo qua Sono abbastanza al sicuro Ok io mi faccio questo sotto la montagna allora Cioè grazie al tipo ho un botto di materiali Allora aspetta che cambio anche il tipo di cosa Lo facciamo tutto in mattoncini Siamo in cinque ferie Quindi ci sono tre persone vive oltre a noi Ok Chissà se sono due team Un team Cioè due team Difficile da dire Vabbè mi sono incasinato Ho capito Ho capito quello che volevi dire L'abbiamo capito tutti Stai molto preoccupanti L'importante è che capite Allora vado Faccio così So che è rischioso Ma ne vale la pena per non morire di RPG In modo istantaneo Poi metto una scala qua E una qua E al momento sto così Vedo costruire a 60 gradi Ok Una torre In questo momento Sarà sicuramente dentro la zona Quindi uno è lì Forse Aspetta Sto cercando di capire Perché uno è uscito da lì Devo capire se insieme ad un altro O se lì abbiamo un solo player Eccolo Sì 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 vedo Ok Non lo so Stai ovviamente coperta Tanto noi non possiamo sparare a priori Quindi stiamo sempre coperti da qualunque punto Cerco di stare coperta il più possibile Sta correndo di nuovo il tipo Lo vedi? Si sta rispostando Ok Ok sta scendendo No io vedo quello che continua Erano due lì Erano due lì Quindi quel team è da due E si stanno spostando entrambi in questo momento E sappiamo verso dove vanno Che è un bel vantaggio incredibile Ok A questo punto Non lo so Fere Forse ci dovremmo muovere anche noi È probabile Vero? Lì c'è un airdrop Vediamo se vengono in queste zone Perché Uh 2v2 Ferri gli andiamo addosso? Proviamo Hai un trampolino? No Riesci a venire nel mio? Con le scale? Ti fai una piattaforma dritta Esatto Vieni 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 Veloce? Ah no cavoli lì sopra Veloce? Vai Sul trampolino dritti di fronte a noi Che idea pessima Lo so Che idea pessima Sono caduta di sotto Dove sei? Dentro Sì E mi sono fatta l'ultima kill Vai Oh mio dio Non l'avrei mai detto Accidenti Sto tremando Questo è stato una bella win Questo è stato una bella win Giocando come i due scemi Col pompa Tutto il tempo abbiamo vinto Dobbiamo ringraziare Che abbiamo trovato Un sacco di trampolini Avevamo 4 totali Cioè è proprio stato quella la cosa migliore Perché infatti ha funzionato questa tecnica Ah sto ancora trovando Oh mamma mia Vabbè Non ho parole Comunque 8 kill totali E vittoria con i pompa Fantastico Fantastico Grazie a tutti Sto faccio un bel like Non ho provato A questo nostro video Potete considerarla Di iscrivervi Per non perdere Di altri video Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao